Buongiorno a tutti da Andrea della Selle di Brescia vi mostrerò oggi un kit 2V da 165 mm del marchio Focal il kit è lo Universal ISU 165 partiamo dal woofer come si può notare di ottima fattezza caratteristica principale la ridotta profondità di installazione 48,4 mm che lo rende facilmente installabili su numerosi tipi di vetture il tweeter a cupola invertita in magnesio e alluminio viene fornito con due supporti per facilitare l'installazione questo kit ha un'elevata sensibilità di 93 dB il che lo rende molto efficiente anche in abbinamento a autoradio originali o aftermarket senza necessariamente l'installazione di amplificatori in aggiunta ha una potenza massima di 140 Watt quindi RMS di 70 Watt e rappresenta un buon upgrade per chi vuole sostituire gli altoparlanti originali ed avere indubbiamente una migliore timbrica dinamica dell'impianto ha un costo di listino escluso e scontistiche di 170 euro IVA compresa ovviamente lo potrete trovare presso il nostro centro installazione di Brescia ma è presente anche nel nostro shop online salcarshop.it di conseguenza se siete interessati a questo kit non esitate a contattarci oppure acquistatelo direttamente presso il nostro shop un saluto a tutti e al prossimo video grazie a tutti